Un applauso! Il applauso è stato tagliato come simbolo di speranza per allontanare l'assenza di gioia e per ufficializzare l'ingresso e reparto, oltre che de Portaflebo, anche di sei banche e sei sedie per la scuola in reparto, adatti al distanziamento in quanto moduli singoli, dotati di rotelle e utilizzabili separatamente. L'obiettivo di questa iniziativa rientra nel progetto denominato Dipingiamo l'ospedale, che ha la finalità di colorare gli ospedali pediatrici, drammatizzare e umanizzare le cure, nonché rendere questi reparti a misura di bambini. Grazie per la visione!